Totila, un re ostrogoto immortale nella leggenda. Dalle radici gotiche al trono d'Italia. Nato a Treviso intorno al 516 d.C. con il nome di Baduila, Totila sarebbe salito al trono degli ostrogoti nel 541 d.C. assumendo il soprannome regale Totila, che in gotico significa l'immortale. La sua ascesa avvenne in un periodo turbolento, segnato dalla guerra greco-gotica e dal declino del regno ostrogoto in Italia. Un guerriero abile e un leader carismatico, Totila si distinse subito come abile condottiero, riorganizzando l'esercito ostrogoto e guidandolo con tenacia contro l'avanzata bizantina. Le sue tattiche innovative e il suo coraggio in battaglia gli permisero di ottenere diverse vittorie, riconquistando gran parte della penisola italiana. Un re giusto e moderato, oltre alle sue doti militari, Totila si guadagnò il favore della popolazione italiana grazie al suo carattere moderato e al suo impegno per la giustizia. Cercò di riformare il sistema fiscale, limitando le oppressioni e restituendo terre ai contadini. Inoltre, si mostrò clemente verso i nemici sconfitti, guadagnandosi il rispetto anche degli avversari. La guerra greco-gotica e la battaglia di Tagine, la guerra contro l'impero bizantino si protrasse per anni, con alterne fortune. Nel 552 di Cile due armate si scontrarono nella decisiva battaglia di Tagine. Totila combatte valorosamente, ma fu sconfitto e morì in battaglia. L'eredità di Totila, la morte di Totila segnò la fine del regno ostrogoto in Italia. Tuttavia, la sua figura rimase impressa nella memoria collettiva come quella di un re eroico e leggendario. La sua tenacia, il suo coraggio e il suo senso di giustizia lo hanno reso un personaggio immortale non solo nel nome, ma anche nella memoria del popolo italiano. Totila nella letteratura e nell'arte. La figura di Totila ha ispirato numerose opere letterarie e artistiche nel corso dei secoli. Lo troviamo protagonista di poemi epici, tragedie, romanzi e opere d'arte figurativa. La sua storia continua ad affascinare e ad ispirare, a distanza di secoli dalla sua morte. Totila, un vero eroe storico, Totila non fu solo un abile guerriero e un saggio re, ma anche un uomo di grande levatura morale. La sua tenacia di fronte alle avversità, il suo senso di giustizia e il suo amore per l'Italia lo rendono un vero eroe storico, un esempio di leadership e di speranza per le generazioni future. Conclusione, Totila rimane una figura di grande fascino e complessità, un esempio di come le doti militari possano unirsi a quelle umane e politiche per creare un leader capace di ispirare e guidare il suo popolo. La sua storia è un monito a non dimenticare le nostre radici e a lottare per ciò che è giusto, anche di fronte alle sfide più difficili.